A Voltoi per il semplice motivo che erano velocissimi nel commettere l'azione criminale. Dopo aver scelto l'obiettivo da colpire, giravano intorno fino a che non arrivava il momento opportuno e lì poi colpivano in modo veloce. 30 secondi, massimo un minuto. Pochi secondi per mettere a segno i colpi ai danni prevalentemente di anziani e donne. Madri che accompagnavano i figli a scuola e persone che lasciavano l'auto di fronte ai cimiteri, ai supermercati e persino nei pressi degli olivetti durante la raccolta delle olive. In tre sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Sansepolcro durante l'operazione Voltur. Due uomini di 38 e 26 anni e una donna di 35, nomadi di etnia Sinti. Il modo superandi era sempre lo stesso, rubavano dalle auto in sosta, cellulari e portafogli e poi via al bancomat più vicino per svuotare il conto corrente. Le indagini sono partite dal furto ai danni di un settantenne di Sansepolcro nell'estate del 2015. I militari hanno seguito per un mese e mezzo la banda. 15 furti documentati in un giorno, i tre si facevano anche 200 chilometri. Abbiamo rilevato un girovagare continuo per tutta la regione Umbria e anche alcune province della Toscana e del Lazio. E purtroppo non tutti gli obiettivi da loro colpiti sono stati oggetto di accertamento proprio per il numero scuro dei reati che purtroppo dipende dalla mancanza delle denunce presentate anche, soprattutto dagli anziani. Ricordiamo allora quali erano i loro obiettivi anche per informare la popolazione e fare in modo che sia un po' più attenta ai propri comportamenti. I loro obiettivi erano i parcheggi dei cimiteri, piuttosto che dei supermercati, piuttosto che delle scuole, soprattutto negli orari di ingresso e negli orari di uscita degli studenti, soprattutto di allunni delle scuole elementari, piuttosto che delle materne. Quindi il consiglio che noi diamo è quello di non lasciare incostuditi la borsa, piuttosto che il portamonete, anche per pochi minuti all'interno di un'autovettura lasciata in sosta, perché quello è il momento migliore per essere derubati.